benvenuti alla seconda parte della nostra lezione sulla manipolazione di stringhe adesso continueremo con un altro esempio che è quello della concatenazione vedremo entrambi i metodi ovvero quello con la classe java e il metodo concat e quello con la forma abbreviata un po come il literale della dichiarazione delle variabili tipo stringa o con il più è molto semplice quello che faremo è creare creare due variabili di tipo stringa e poi concatenarle cioè creare una terza variabile che è la concatenazione delle due così facendo possiamo stampare selettivamente le tre variabili la prima singola la seconda singola e la terza che tra virgolette la somma delle due la concatenazione delle due come faremo questa cosa andiamo a creare una nuova classe all'interno del nostro progetto io ho cancellato quella dell'esempio precedente leghiamo esempio concatenazione eccolo qua sempre col metodo main stessa procedura ormai questo wizard l'abbiamo visto diverse volte cancelliamo il contenuto abbiamo detto creo due stringhe per semplicità la faccio con la forma abbreviata quindi stringa s1 uguale mario esempio proprio che vi ho fatto in precedenza stringa s2 uguale a rossi benissimo ho due stringhe tecnicamente io queste stringhe le posso stampare come ho stampato prima negli altri esempi una alla volta quindi posso fare la stampa della stringa s1 e copiare il comando ed effettuare la stampa della stringa s2 quindi questo non è più nemmeno che un esercizio che abbiamo visto tante volte un esempio che abbiamo visto tante volte ecco la variante andiamo ad applicare il metodo concat quindi io vado a creare una variabile d'appoggio la chiamerò s3 per semplicità che non è altro che la concatenazione della stringa s1 s2 mi raccomando la concatenazione si legge da sinistra verso destra quindi io farò s1 richiamo il metodo concat per richiamare un metodo una funzione come ho fatto con l'enct si usa il punto puntatore a funzione guardate il concat me lo mette come primo metodo in ordine alfabetico e c'è la c siamo anche fortunati vedete che cosa vi dice il concat è una funzione che prevede come parametro quindi tra le parentesi tonde vedremo poi come si scrivono queste cose prevede una stringa di input per concatenarla con quella su cui stai applicando il metodo quindi io sto inserendo qua una lui si aspetta che c'è una stringa vedete mi da anche disponibili le due stringhe che sono all'interno del codice posso muovermi con le frecciette e scegliere stringa s1 s2 automaticamente dice ok io mi aspetto che dentro ci sia un oggetto di tipo stringa una variabile di tipo stringa nel codice ne trovo due s1 me l'hai già usata probabilmente vorrei scrivere s2 ti da un suggerimento ma possiamo anche concatenare s1 con s1 nessuno lo vieda sto memorizzando una nuova variabile scriverò mario 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 posso concatenare quante volte voglio ora per semplicità concateno una volta sola affiancherò mario e rossi come se fossero un'unica parola ecco qua adesso sta però la stringa s3 quindi non è molto difficile usare il metodo concat così come non era difficile usare il metodo length sto manipolando una stringa la mando in esecuzione quindi stamperò questo programma vediamo che succede scusate ho dimenticato una m infatti mi diceva che c'era un errore perfetto eccolo qua mario rossi mario rossi attaccato questo è una possibilità ma c'è un metodo equivalente e anche più veloce a volte da scrivere per le stringhe molto utile ovvero sommarle s1 più s2 non facciamo altro che una somma di caratteri ma non è che viene fatta una somma matematica non si possono fare operazioni matematiche sulle lettere sulle parole non è che a più b mi dà qualcosa in termini di alfabeto in questo caso semplicemente me le affianca quindi abbiamo due scritture evidenti o col metodo concat o anche col metodo più vedete che l'output è lo stesso ok s1 più s1 posso fare s1 più s2 più s1 quante volte voglio le posso utilizzare posso concatenare più volte anche ripetere 5-6 volte lo stesso numero o la stessa parola eccolo rossi mario mario rossi rossi quindi qui ci si può divertire e sbizzarrire perché concatenare delle stringhe? che cosa servono? lo vedremo molto spesso nei comandi sql cioè nei comandi che faremo da java verso i database quando si va a scrivere una query una richiesta al nostro database dobbiamo scrivere delle cose che vengono spesso mappate come stringhe e magari delle volte vengono elaborate e concatenate quindi queste semplici concatenazioni che adesso sono ad uso didattico per imparare un po' quelle che sono le funzioni poi saranno sempre più importanti per quando utilizzeremo il database quindi la parte 2 finisce qui ci vediamo tra poco con la parte 3 al prossimo video grazie a tutti